Un messaggio dell'imperatore L'imperatore, così si racconta, ha inviato a te, a un singolo, a un misero suddito, minima ombra sperduta nella più lontana delle lontananze dal sole imperiale, proprio a te l'imperatore ha inviato un messaggio dal suo letto di morte. Ha fatto inginocchiare il messaggero al letto, sussurrandogli il messaggio all'orecchio, e gli primeva tanto che se l'è fatto ripetere all'orecchio. Con un cenno del capo ha confermato l'esattezza di quel che gli veniva detto e dinanzi a tutti coloro che assistevano alla sua morte, tutte le pareti che lo impediscono vengono abbattute e sugli scaloni che si levano alti ed ampi sono disposti in cerchio i grandi del regno, dinanzi a tutti loro ha congedato il messaggero. Questi si è messo subito in moto, è un uomo robusto, istancabile, manovrando or con l'uno or con l'altro braccio si fa strada nella folla, se lo si ostacola accenna al petto su cui è segnato il sole e procede così più facilmente di chiunque altro. Ma la folla è così enorme, e le sue dimore non hanno fine. Se avesse via libera all'aperto, come volerebbe, e presto ascolteresti i magnifici colpi della sua mano alla tua porta, ma invece come si stanca inutilmente. Ancora cerca di farsi strada nelle stanze del palazzo più interno. Non riuscirà mai a superarle, e anche se gli riuscisse non si sarebbe a nulla. Dovrebbe aprirsi un varco scendendo tutte le scale, e anche se gli riuscisse non si sarebbe a nulla, c'è ancora da attraversare tutti i cortili, e dietro a loro il secondo palazzo, e così via per millenni, e anche se riuscisse a precipitarsi fuori dell'ultima porta. Ma questo mai e poi mai potrà avvenire. C'è tutta la città imperiale davanti a lui, il centro del mondo, ripieno di tutti i suoi rifiuti. Nessuno riesce a passare di lì, e tanto meno col messaggio di un morto. Ma tu stai alla finestra, e ne sogni, quando giunge la sera.